10, venga inserito vai, sinistra 5, 50, destra 6 sfiora in sinistra 5 più, in ritardo a sinistra 3 più in destra 3 più lascia in sinistra 5 per dosso, e subito destra 4 più, lunga 6 e in destra 4 e in sinistra 5, lunga 6 su dosso 50 a destri in ritardo a sinistra 5, lunga 5 meno in attenzione a destra 3 più lascia rispetto a 5 meno, poi a destra 3 più lascia 50, sinistra 5, lunga 6, 100 vai, vai, sinistra 4 più, tieni là in fondo in attenzione, destra 3, chiude 2, gira destra 3, chiude 2, gira subito sinistra 3 più e per attenzione, sinistra 4 su dosso, lunga chiude 3 al cespuglio e subito ritarda destra 3 meno lascia in dosso destro e in sinistra 6, 100 vai, vai, tira le marce ritardala in fondo, sinistra 5, lunga chiude 3 più, subito destra finca e in destra 3 più e in destra 6 più dosso 3 più 4 vai ora, vai pieno, destra 6 su dosso ancora pieno, tutto tira le marce destra 6, 80 per destra 600 vai, e attenzione stacca sinistra 3 meno e subito destra 2, lunga gira rotonda in sinistra 2 apre vai pieno ora, pieno 150, bossatti sinistra 6 su dosso falla bene, traiettoria vai pieno, pieno sinistra finta 6 in destra 5, tieni vai, vai pieno e subito ritarda in alto 3, sinistra 3 chiude 2, gira ok, chiude 2, gira in destra 3 no e occhio al no e lunga 3 più occhio al no qua e in sinistra finta e per dosso dritto e in attenzione ritarda sinistra 3 la in fondo ritarda sinistra 3 e per sinistra 5 subito destra 3 più gira destra 3 più gira 50 per destra 6 su dosso schiora attenzione sinistra 4 e per destra 4 più lascia e in ritarda destra 3 ritarda qua destra 3 in attenzione sinistra 3 chiude 2, gira tieni ripeto sinistra 3 chiude 2, gira tieni subito destra 3 tieni aggancia e per subito attenzione sinistra 1 leva in bivio fai bene il bivio destra 5 subito sinistra 5 tieni e subito attenzione destra 2 lunga gira e subito sinistra 4 e per attenzione destra 4 finta risparmia subito sinistra 3 più apre 50 vai ora vai sinistra 3 più subito destra 6 lascia 50 ripeto destra 6 lascia 50 vai pieno pieno per destra 6 pieno pieno subito sinistra 6 lunghissima 4 occhio che chiude un po' 4 80 vai ora vai pieno 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 stacca destra 1 e subito sinistra 1 risparmia la destra 1 fai bene l'altra e poi in destra 4 vai sfrutta l'uscita pieno 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 e poi riparda destra 5 lunga tutto giù sfrutta le marce vai vai pieno riparda destra 5 pieno ancora giù ancora giù e subito attenzione sinistra 1 gira palla bene questo 1 giro vai fino al rosso senza cambiare vai pieno 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 vai 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 non cambiare non cambiare